Dico semplicemente che non è questo il caso, non è questo il momento, quando l'abbiamo fatto a marzo e aprile l'abbiamo fatto perché era necessario rafforzare le terapie intensive, non avevamo ventilatori che sono stati acquistati e distribuiti, oggi sono molto più forti, avevamo la necessità, lì si ricorderà, io sono andato con più voli della Guardia di Finanza per la Realità Militare, ad accompagnare medici, volontari, nelle corsie più drammaticamente condizionate dalle cose che ricorderete tutti a Bergamo, Brescia, in gran parte del nord, quella fase non c'è più e non esiste più, non dobbiamo arrivare lì, non ci arriveremo perché le reti sanitarie sono rafforzate e dobbiamo stringere questo sì molto di più.